Ciao, sono Donato D'Ambrosi di Sicuroauto.it e in qualità di Monroe Brand Ambassador voglio spiegarti in questo video l'importante ruolo delle molle e perché non dovrebbero essere sostituite solo per rendere un'auto più sportiva. La sostituzione degli ammortizzatori è il momento ideale per controllare le molle più da vicino. Se infatti agli ammortizzatori va il maggior merito per il comfort e la sicurezza di guida sono le molle a sostenere il carico statico e dinamico del veicolo. Gli permettono in pratica di mantenere una ben definita altezza da terra in qualsiasi condizione di guida. Queste Monroe ad esempio sono realizzate in acciaio al cromo vanadio silicio e sottoposte a un processo di pallinatura per renderle più resistenti prima di ricevere un triplo strato di vernice possidica. Se dopo averle smontate e pulite dovessi notare dei punti di ossidazione, delle cricchie o delle deformazioni nelle spire è inevitabile la sostituzione per non compromettere anche la durata dei nuovi ammortizzatori. Nella gamma Monroe ci sono diversi tipi di molle fino anche alle molle ibride mini blocca a filo conico che riescono a combinare il comfort e il piacere di guida in base a come viene sollecitata la sospensione. Sul portale Tadis potrai simulare come cambia il comportamento dell'auto prima e dopo aver sostituito le molle. Ma ricordati di controllarle ogni volta che smonti gli ammortizzatori e se devono essere sostituite potrai trovare le molle adatte ad ogni auto in pochi clic sul portale Monroe. Così potrai effettuare anche una sostituzione completa degli ammortizzatori a regola d'arte e soddisfare pienamente i tuoi clienti.